Ciao a tutti amici di ECOBELL, oggi sono qua con un nuovo video e finalmente vi presento il nostro nuovo prodotto. Si tratta di questo Smart Dimmer o varia luce di ECOBELL. Questa è la busta che trovate e all'interno trovate appunto il nostro dimmer. Il nostro dimmer ha un range di potenza che va da 1 a 200 Watt ed è compatibile con l'illuminazione LED e l'illuminazione tradizionale. Per quanto riguarda l'illuminazione LED si parla di un massimo di 150 Watt e per quanto riguarda la tradizionale 200 Watt. Ovviamente le lampadine sia LED che tradizionali devono essere dimmerabili. Una volta collegato appunto il nostro dimmer all'interruttore, quindi una volta fatto il collegamento, il nostro dimmer vi permetterà di aumentare o diminuire l'intensità luminosa delle lampadine dimmerabili a vostro piacimento tenendo semplicemente premuto il pulsante, cioè l'interruttore. Inoltre questo dimmer può essere inserito comodamente nella scatola dell'interruttore della luce. Seguirà un breve test di dimmerazione sulle nostre lampadine. Ciao! 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 Grazie a tutti